Realizzare un'intera collezione di NFT e caricarli su OpenSea. Si può fare sì e lo vediamo in questo video. Per prima cosa vi servirà scaricare Node.js. Recatevi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e fate il download della versione raccomandata, ovvero quella a sinistra, per il vostro sistema operativo. Una volta scaricato, aprite il file e seguite la procedura di installazione. Una volta scaricato Node.js andate nell'altro link che vi lascio qui sotto in descrizione e scaricate un editor di codice, ovviamente questo se non ce l'avete già. Io vi consiglio Visual Studio Code. Anche qui in questa pagina cliccate Download per il vostro sistema operativo e poi eseguite il file che avete scaricato. Dopo Visual Studio Code vi servirà IPFS Desktop che vi lascio sempre qui sotto in descrizione e da questa pagina potrete scendere, vedere la versione per il vostro sistema operativo, in questo caso Windows, mi rimanda qui all'IPF Desktop Download Page e da qui in realtà non c'è solo quella per Windows ma per tutti i sistemi operativi. Vedete Linux, vedete il .dmg che è per iMac e poi qui sotto il setup .ex che è per Windows. Voi scaricate la versione per il vostro sistema operativo ed ovviamente anche in quel caso aprite il file che avete scaricato e seguite la procedura di installazione. E adesso che avete scaricato tutto il necessario vi servirà un programma per creare i vostri NFT. Andate sempre nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e scaricate Lashlips Art Engine andando qui su Code e Download Zip. Andate poi dove l'avete scaricato, fate tasto destro, estrai tutto ed estraetelo dove più preferite. Una volta fatto cercate Viso Studio Code e solamente se siete da Windows fate tasto destro ed eseguitelo come amministratore e una volta aperto voi vi troverete in questa schermata. Da qui andate su File, Open Folder e selezionate Lashlips Art Engine, in questo caso mi ha creato una cartella nella cartella quindi io seleziono anche quella all'interno e quando vedrete questa schermata cliccate qui sotto su Selezione Cartella. Adesso aprite il terminale cliccando su Terminal e New Terminal. Per vedere di aver installato correttamente Node.js digitate Node-version. Vedete che in questo caso a me esce la 16.16.0. Ovviamente anche voi dovrà uscire una versione di Node.js così che voi capiate di averlo installato correttamente. Una volta verificato digitate il comando npm install e lasciate che il PC installe tutte le dependencies necessarie per far funzionare questo programma. Potrebbe volerci qualche minuto se non pochi secondi, infatti in questo caso ci ha messo davvero poco. Una volta fatto possiamo andare qui nella cartella dei Layers e vedere come c'è Background, Bottom Lead, iColor e così via. Vediamo che cliccando ci sono tantissime immagini che voi ovviamente potrete rimpiazzare con le vostre per creare i vostri personali NFT. E poi come vedete ogni immagine ha un hashtag e un numero a fianco. Ovviamente quello non verrà riportato nei metadati di questa NFT ma servirà solamente a questo programma per capire quanto peso dare ad un'immagine. In questo caso vedete come in Bottom Lead c'è il High, Low e Middle che hanno rispettivamente hashtag 20, hashtag 40 e hashtag 40. Quindi la prima che ha hashtag 20 sarà molto più rara di quelli che hanno hashtag 40 perché in proporzione verrà utilizzata meno volte per creare un NFT. Una volta che voi l'avete rimpiazzato con le vostre cartelle contenenti le vostre immagini, che ovviamente possono avere un nome diverso rispetto a Background, Bottom Lead e così via, andate qui sotto dove c'è src, poi cliccate su config.js e scendendo qui sotto dovrete modificare ovviamente i nomi delle cartelle. Il tutto in ordine gerarchico. Questo che vuol dire che prima verrà utilizzato il background, sopra il background sarà messo l'eyeball, sopra ancora l'eyecolor e così via. Quindi il background è il primo layer, quello che sta dietro a tutto, mentre il top lead è l'ultimo layer che sta sopra a tutto. Voi modificatelo con i nomi delle cartelle che avete inserito ed ovviamente se le vostre cartelle sono di meno potete tranquillamente eliminare qualche riga di codice. Per decidere quanti nft creare dovrete modificare questo valore, ad esempio se ne volessi creare 10 metto 10, se ne voglio creare 10.000 ovviamente digito 10.000, però in questo caso io ne voglio creare 50. Poi scendiamo ancora un po' qui sotto, vedete che qui c'è il format, in questo caso le immagini sono 512x512 quindi a me non interessa, ma se il formato delle vostre immagini dovesse essere più grande ovviamente dovrete adattare anche il format qui sotto. Se le vostre immagini sono 2000x2000 qui mettete 2000 e 2000 o così via in base alle vostre grandezze. E quando avrete finito dovrete digitare ctrl s o command s su mac per salvare le modifiche appena effettuate. Una volta salvato tornate qui sotto nel terminale e digitate node index.js. Una volta fatto date invio. Adesso verranno creati tutti i vostri nft. Ovviamente se ne avete creati tanti ci vorrà molto tempo prima che questa procedura volga al termine. Ed ecco che i miei 50 sono stati creati. Per andarli a vedere basterà andare qui nella cartella build che prima non c'era ma viene creata dal programma, aprirla e vedere che all'interno c'è una cartella images con tutte le immagini, mentre sotto c'è una cartella json con tutti i metadati. Ovviamente qui vedrete anche un altro file che si chiama metadata.json che ci servirà poi anche per rimpiazzare questo link all'ipfs ma che per adesso non ci interessa. Come vedete qui a me l'ha chiamata yourcollectionhashtag9 e in description ci ha scritto remember to replace this description. Ovviamente perché io non l'ho modificata ma andando sempre nel file config.json potevate modificarlo. Ad esempio al posto di yourcollection posso inserire ciao e al posto di description posso inserire a te, così a caso. Faccio ctrl s o command s su mac sempre per salvare e digito nuovamente nodeindex.js. Vediamo che di nuovo tutti gli nft vengono generati. Ovviamente chiamarle nft adesso è improprio perché finché non vengono caricati in blockchain sono solamente delle immagini e non degli nft ma li chiamo così giusto per farvi capire. Ovviamente tornando nella build ci sono di nuovo le immagini anche se saranno diverse rispetto a quelle di prima e nei json vediamo come appunto qui il numero 5 si chiama ciao 5, il 6 ciao 6 e così via e poi nella description c'è a tutti la stessa frase, in questo caso a te. E vediamo come qui ci sono tutti i metadati perché per creare questa immagine sarà usato il background, di quel background nello specifico il valore black, poi l'eyeball, di quell'eyeball nello specifico il valore red. Ovviamente queste sono le cartelle e questi i file contenuti nelle cartelle che per voi saranno diversi una volta che li modificate. Una volta fatto entra in gioco l'ipfs, digito ipfs nel finder e una volta trovato lo clicco per aprirlo. Ed ecco che mi ritroverò in questa schermata, da qui vado su file, clicco qui sopra su importa, seleziono nuova cartella e la chiamo immagini anche se in realtà il nome qui è irrilevante. Clicco su crea, poi apro questa cartella, clicco nuovamente su importa e poi file. Vado nella cartella build dove ho le immagini, faccio CTRL A per selezionare tutto e poi clicco su apri. Ovviamente se voi avete generato qualcosa come 10.000 immagini vi consiglio di caricarle mille alla volta per evitare possibili errori. Comunque qui potrete controllare tutto, infatti c'è una spunta verde vicino a ogni file per farmi capire che sono stati caricati correttamente. Se ci dovesse essere la x su un singolo file, ovviamente ricaricate quel file specifico. Una volta caricate tutte e 50, vediamo come questa cartella immagini ha un codice qui sotto che in realtà c'era anche prima ma era diverso perché cambia per ogni cosa che aggiungete al suo interno. Quindi una volta messo 50 immagini, questo codice è diverso rispetto a quello di prima. E questo codice è un CID, ovvero un content identifier che dovrà essere presente nei nostri file JSON e che sarà utilizzato dai marketplace per capire dove si trovano i nostri NFT, le nostre immagini. Vado qui su questi tre puntini, clicco su imposta pinning e poi nodo locale. Una volta fatto clicco su applica. Adesso che ho pinnato, quindi ho messo in evidenza questa cartella, clicco nuovamente sui tre puntini e faccio copia CID. Una volta copiato torno su visual studio code, ritorno nel config.json e al posto di questo new u to replace io andrò a fare ctrl v o command v su mac di questo CID. Poi faccio ctrl s o command s su mac per salvare e questa volta però non faccio ripartire tutto il programma da capo ma utilizzerò un altro script. Digitando node utils perché si trova appunto qui nella cartella utils slash update trattino basso info.js che è appunto questo script che troviamo qui sotto che ci servirà a modificare i file JSON che abbiamo già creato. Clicco su enter ed ecco che mi dice che il base Uri è stato modificato in questo, la descrizione in quest'altro e il nome in quest'altro. Ovviamente perché qui l'avevamo già lasciati ma in questo caso io l'ho chiamato tutti ciao. Se volessi chiamarli ciaone potrei scrivere ciaone qui, salvare, andare qui sotto, digitare nuovamente il comando e vediamo come anche il nome è stato modificato. Infatti andando qui nei JSON vediamo come si c'è l'ipfs che abbiamo aggiunto prima ma il nome è anche cambiato in ciaone rispetto allo ciao che c'era prima. Mi raccomando questo file metadata.json è indispensabile se doveste cancellarlo in questo procedimento non potrete più utilizzare questo update trattino basso info.js per modificare i parametri all'interno dei file. Una volta fatto torniamo sull'ipfs, andiamo di nuovo su importa, nuova cartella e in questo caso io la chiamo metadati. Clicco su crea, poi apro questa cartella, clicco di nuovo su importa, file e adesso esco dalle immagini, vado in JSON e anche qui faccio ctrl a. Io carico tutto anche il file metadata.json anche se in questo caso potete anche non caricarlo perché è inutile. Una volta fatto verifico sempre che tutti abbiano la spunta verde così che siano caricati in modo corretto e poi per depositare un contratto in blockchain che contenga i vostri NFT dovrete ricarvi su remix.ethereum.org che comunque vi lascio qui sotto in descrizione. Cliccate su contracts, cliccate su quest'icona qui sopra per creare un nuovo contratto e lo chiamate come volete. In questo caso mytoken.sol. L'importante è che ci sia il .sol finale perché è un file solidity. Dovrete incollare all'interno di questo file il contenuto di una pagina di GitHub che vi lascio qui sotto in descrizione dove appunto è contenuto questo smart contract. Mi raccomando però gli smart contract che faccio vedere nei miei video sono solamente per scopo educativo e infatti consiglio prima di utilizzare un qualsiasi smart contract di informarsi bene su questo mondo. E infatti questo smart contract tra l'altro è molto base. Si possono fare solamente poche cose e molte delle funzioni principali degli smart contract qui non ci sono. Ovviamente si parla di smart contract inerenti a NFT. Qui potrete cambiare il nome del contratto come ad esempio ciao e nel costruttore qui sotto potrete cambiare il nome della collezione che io chiamerò sempre ciao e il simbolo della collezione che io chiamerò CIA. Poi andate su questa icona e se l'auto compile non è già attivo dovrete cliccare manualmente compile mytoken.sol. Tornate nuovamente su quest'icona qui in alto e all'interno qui di depths dovrete poi andare su npm, irc721a, contracts e poi cliccare questo irc721a.sol. Fate ctrl f per cercare all'interno del browser e digitate token URI. Vediamo che qui è la riga 288 c'è appunto la function token URI. Voi dovrete andare qui dopo token ID mettere una virgola poi le doppie virgolette e digitare .json. Poi fate ctrl s per salvare oppure andate sempre qui e cliccate compile rc721a. E quando avrete finito dovrete cliccare su questa icona da remix vm passare a injected provider che è il vecchio injected web 3 e vediamo come si collega automaticamente alla rete goerly. Infatti non si può più utilizzare la rete di test rinkeby o la rete di test ropsten perché dopo il merge queste reti saranno sostanzialmente distrutte. E anche se saranno distrutte il 10 o il 15 non mi ricordo di ottobre OpenSea e altri marketplace già non le accettano più come reti di test. Quindi vedete che qui io sono sulla rete di test goerly e voi dovrete copiare il vostro account andare su goerly fauciet e una volta entrati su questo fauciet come per rinkeby dovrete incollare qui il vostro indirizzo e poi cliccare su send me eth. Io non posso farlo perché si può fare solamente una volta al giorno e oggi l'ho già fatto. Quando avete finito tornate su remix ethereum se avete aperto questo rc721a dovrete tornare sul vostro my token o come l'avete chiamato compilarlo se non avete sempre attivato l'autocompile tornare su quest'icona qui sotto e se non è già selezionato dovrete cliccare qui dove c'è scritto contract e selezionare lo smart contract come voi l'avete chiamato in questo caso io l'ho chiamato ciao. Poi clicco qui sotto su deploy confermo la transazione e quando la transazione sarà andata a buon fine e lo potete vedere sia da questo pop up ma anche dal tic verde su remix ethereum vedete che qui sotto ci sarà la scritta deployed contracts e cliccando su questa freccettina vediamo tutte le funzioni del nostro smart contract. Quella che ci interessa di più a noi però è la funzione di mint infatti cliccando su questa freccettina vediamo come ci apre questa schermata e se ricordate bene io ho realizzato 50 nft ma prima di cliccare il tasto mint mi sono dimenticato di fare un passaggio. Quindi torno su ipfs desktop vado qui dove c'è metadati clicco i tre puntini e copio il cid qui dove c'è ipfs due punti doppio slash e quest'altro content identifier io lo andrò a rimpiazzare con il mio eccolo qui quando ho fatto faccio ctrl s o sempre qui compile my nft my token scusate punto sol torno di nuovo su questa schermata clicco su questa freccettina ed elimino qui il contratto. Questo perché mi sono sbagliato prima e non avevo fatto questa modifica quindi clicco nuovamente su deploy confermo la transazione e quando la transazione sarà andata a buon fine posso tornare in deployed contracts questa volta cliccare di nuovo la freccettina e qui dove c'è possibilità di scrivere la quantità io metterò 50 che sono tutti gli nft che ho realizzato. Una volta cliccato su transact mi apparirà questo pop up di metamask e io confermerò la transazione e ovviamente dovrò aspettare anche in questo caso che andrà a buon fine ed ora che la transazione è andata a buon fine posso andare qui sotto dove c'è total supply cliccare e vediamo come la total supply è 50. E se adesso andassi qui in token URI e mettessi magari il primo e cliccassi sul pulsante token URI vediamo che mi dà appunto questo indirizzo. Se io prendessi l'indirizzo e lo incollassi nel mio browser questo funziona solamente su brave browser o anche su chrome se avete installato l'estensione per un unstoppable domain e clicco appunto invio vediamo come mi apre questa pagina dove c'è appunto il file json che potrei vedere anche andando qui metadati e 1.json vedete che è lo stesso. E qui che ci dice? Il nome, la descrizione della collezione, tutti gli attributi e poi all'image ci rimanda a quest'altro link. Se io facessi ctrl c e ctrl v anche di quest'altro link vediamo come appare l'immagine. Infatti se adesso andassimo sulla testnet di OpenSea ovviamente non OpenSea normale che regge solamente le mainnet ma sul testnet perché appunto stiamo utilizzando una rete di test. E andassi qui dove io ho già fatto l'accesso altrimenti effettuate l'accesso vediamo come scendendo qui sotto ecco tutti gli nft che io ho appena caricato. Eccoli qui dal primo all'ultimo. Ovviamente ci potrebbe volere un po' più di tempo a caricarli o magari un po' di meno dipende anche da quanto pesano le immagini però appariranno tutti qui. Ed anche per questo video è tutto. Se avete domandi o dubbi scrivetemelo qui sotto nei commenti e se vi sono stato utile lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video sempre inerenti al mondo cripto ed nft. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!